e ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video bene oggi ragazzi mi trovo in un posto bellissimo in una piana però ovviamente non vi posso dire che questo è un posto segreto perché ci stanno altre persone che stanno e hanno detto anche su youtube dove sta questo posto quindi io per rispetto anche di quelle persone non voglio dirvi dove sta questo posto è veramente bello ragazzi non si trova tanto lontano da roma però per chi lo conosce anche se lo conoscete non lo scrivete nei commenti guardate che bello qui in mezzo proprio alle montagne se avete una macchina come questa mia questa è una onda piccolissima è veramente un casino per arrivarci guardate calcolate la strada è così è tutta dissestata peggio in salita quando dovete venire se avete una jeep è molto meglio con la jeep ve la cavate molto ma molto meglio invece da quella parte giù in fondo c'è sta tipo l'aria barbecue che è molto attrezzata comoda è una strada sterrata veramente un casino per arrivarci però un posto che ne vale la pena comunque qui è bello pure per venirci in moto in bicicletta avete una mountain bike perché di là c'è una strada non so quanto è lunga ancora ma questo posto è veramente grande è veramente molto grande e sono fatto una passeggiata adesso me ne ritorno verso la macchina penso che perché ragazzi purtroppo qua non c'è cioè è bello da starci ma era meglio se avevo la carne per fare la brace purtroppo non ce l'ho e poi oggi il tempo non so se regge quindi evitando che piove se piove la strada diventa un casino quindi preferisco andare via prima anche per sicurezza ultima tappa siamo finiti sul lago di albano ultimo giro vi faccio vedere qualcosa è un posto veramente bello allora ragazzi come potete vedere qui la strada carina molto bella un po di dossi artificiali ci sono molti ristoranti cose belle da vedere qua l'unico problema ho scoperto che qua c'è il divieto per i camper quindi il problema qui è che su tutto il lago c'è il divieto per i camper non c'è manco un'aria sosta credo l'unica cosa è venireci con la macchina ragazzi quel video si conclude io vi saluto un saluto qua dal lago di albano posto veramente bello se avete tempo passateci e vabbè l'unica cosa che il parcheggio è a pagamento questa parte perché la parte diciamo quella gratuita si trova da un'altra parte per il resto ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like commentate e ci vediamo al prossimo video